Parliamo di The Banshee Souvenirish e noi in italiano Gli Spiriti dell'Isola. Devo essere sincero, in realtà io questo film molto probabilmente non l'avrei visto se non fosse stato candidato agli Oscar, tra l'altro ben nove candidature in diverse categorie, e quindi non poche candidature assolutamente, e quindi questo video in realtà si trova su questo canale solamente perché grazie agli Oscar ho avuto modo di conoscere il film, cosa che appunto non avrei fatto, e ne sono abbastanza contento visto che mi è piaciuto. Colgo la palla al balzo dicendo che questa è la prima recensione del 2023, e ci troviamo al 2 febbraio, oggi esce il film e questa appunto è la recensione diretta dopo la visione, e mi scuso quindi per l'assenza fatta a gennaio, è una cosa che si ripresenterà più volte quest'anno, soprattutto nella prima parte del 2023, proprio perché quest'anno mi tocca fare la maturità, quindi devo gestire un po' meglio i miei tempi, comunque tutte le motivazioni le trovate nella community del canale, se siete interessati ci sono i post. Altro piccolo cambiamento da quest'anno, le recensioni saranno un po' più discorsive, quindi con meno tagli, perché mi è stato anche detto su Instagram, anzi a proposito andatemi a seguire anche lì, che i tagli sono quasi un limite, che rendono il video molto meno discorsivo e molto più innaturale, quindi cercherò di fare meno tagli possibili, quindi in generale mi scuso anche per magari qualche ripetizione, come il quindi detto più volte in questa frase, ma a parte proprio il taglio che c'è stato in questo momento, cercherò di farne il meno possibile. Prima di parlare del film senza spoiler e poi verso la fine con spoiler, perché c'è qualcosa da dire anche con spoiler, la mia interpretazione del finale è comunque quello che vediamo, vorrei rispondere a una domanda che mi è stata fatta sempre su Instagram, dopo che nelle storie ho pubblicato la locandina del film, dicendo che sarei andato appunto a vederlo, e la domanda è questa, si merita le candidature che ha avuto agli Oscar di quest'anno? Vediamo queste nove candidature, partendo appunto dal premio, non stiamo qua a dirlo, più importante degli Oscar, ovvero Miglior Film, quindi si trova in questa lista, Poi Miglior Regista per Martin McDonagh, Miglior Attore Colleen Farrell, Miglior Attrice Non Protagonista abbiamo Carrie Condon, Miglior Attore Non Protagonista sia Brendan Gleeson che Barry Keehan, quindi doppia candidatura per questa categoria, poi abbiamo Miglior Sceneggiatura Originale, Miglior Colonna Sonora, Miglior Montaggio. Queste sono appunto le nuove candidature, io aspetto di vedere più o meno la maggior parte dei film candidati quest'anno per fare il mio video previsione, ma posso già anticipare qualcosa, secondo me il film si porterà a casa, sia Miglior Colonna Sonora che Miglior Attore Protagonista per Colin Farrell. Queste sono le mie previsioni riguardo gli spiriti dell'isola. Sostanzialmente la mia risposta è sì, si merita le candidature che ha avuto quest'anno, magari non le vincerà tutte, anzi, comunque, ripeto, secondo me qualche statuetta a casa la porterà il film, ma sicuramente non nove statuette, anche perché già in principio c'è una categoria in cui sono candidati ben due attori dello stesso film che non possono vincere assieme. Perché ho apprezzato il film? A parte comunque tutta la parte tecnica, che appunto, ripeto, lo dicono anche gli Oscar, che sono dei premi che contano fino a un certo punto, perché in generale i premi contano fino a un certo punto, le candidature le danno delle persone, esperti quanto volete, ma comunque delle persone. A parte tutto il lato tecnico, appunto, regia per quel candidato, la colonna sonora che si va a fondere benissimo con anche alcune scene, anche la fotografia mi è piaciuta molto, non è candidato per quella categoria, ma secondo me avrebbero potuto anche inserirlo. A parte tutto questo, ho apprezzato davvero tantissimo la metafora che è questo film. Non voglio entrare nel dettaglio per non fare alcun tipo di spoiler, però sappiamo che l'anno di ambientazione è il 1923, quindi ci troviamo nella prima metà dello scorso secolo, e in Irlanda, dove è ambientato il film, in quel periodo si stavano svolgendo le guerre civili. Non voglio assolutamente fare la lezione di storia in questo video, quindi magari se siete interessati a saperne di più, cercate nei libri di storia, su internet comunque. È il film che presenta appunto i personaggi di Colin Farrell, ovvero Patrick, e il personaggio di Brendan Gleeson, Colm, che una volta erano davvero grandi amici, tutta l'isola conosceva questa amicizia, ora senza alcun motivo Colm, il personaggio interpretato da Brendan Gleeson, ha effettivamente tagliato i ponti con l'amico. Si cercherà quindi appunto di capire che cosa è successo e per quale motivo questo cambiamento nella loro vita, e non solo, lo cercherà di capirlo Patrick, il personaggio di Colin Farrell, ma tutta l'isola e anche lo spettatore. Anche se a un certo punto la spiegazione verrà pure detta, non è che si capisca così tanto, ed è proprio questo il motivo per cui ho apprezzato questa metafora. Tutto il film, tutta la storia, si concentra ovviamente sulla stupidità umana, in piccolo nelle amicizie che finiscono, in grande nelle guerre. Quest'anno agli Oscar, gli spiriti dell'isola non è l'unico film che ha a che fare con la guerra, in cui la guerra è importante, c'è anche niente di nuovo sul fronte occidentale, di cui non parlerò in un video dedicato, l'ho già visto, mi è piaciuto, ne parlerò magari poi quando riuscirò a vedere la maggior parte dei film facendo il video pronostici, ma il modo in cui viene trattata la guerra, la tematica della guerra, nel film di Martin McDonagh, appunto in modo delicato, più o meno senza far vedere gli scontri effettivi della guerra civile, ma concentrandosi appunto su quella che una volta era una buona amicizia, una grande amicizia duratura, che finisce senza alcun motivo. Di mezzo c'è davvero tutto, dall'inizio alla fine, progressivamente c'è uno sviluppo del rancore, della vendetta, della tristezza anche, possiamo vederla così, ma soprattutto della stupidità, l'ho già detto, la metafora è quella della stupidità umana. Fino a dove si può spingere la stupidità di un umano? Ecco, la risposta è le guerre, nella maggior parte dei casi nella realtà, ma per quanto riguarda questo film e quello che vuole raccontare, non ve lo dico perché sarebbe spoiler, è perché vi consiglio assolutamente di andare in sala a vedere il film, o comunque fra qualche mese sicuramente si troverà su Disney+, essendo appunto di Searchlight, quindi di Fox. Di quella che una volta in realtà era Fox, adesso non si chiama più così, essendo acquisita da Disney, i 20 Centauri Studios o appunto Searchlight. Il film comunque, anche ai Golden Globe, era indicato come una commedia. Era candidato nelle categorie che comprendevano la parola commedia, perché comunque, penso sappiate un po' tutti, che commedia non vuol dire film comico. La commedia si concentra un po' più sull'umorismo, e sono fresco di studio di Pirandello, nuovo studio di Pirandello, perché comunque l'ho fatto negli anni, l'umorismo non è assolutamente la parte più divertente della vita. Si differenzia totalmente dal comico, quindi l'apparenza, e si concentra di più sulla riflessione, quindi c'è comunque un po' quel senso di divertente, non esattamente, divertente non è proprio la parola, però, quel senso di straordinario, nel senso che non è ordinario, quindi qualcosa di strano, qualcosa di ambiguo, in questo caso, anche grottesco. Ci sono comunque delle battute durante il film che continuano ad incidere su questo punto dell'umorismo, quindi cercano di far sorridere, ma anche riflettere allo stesso tempo per quel che stiamo vedendo, dove appunto si sono spinti i personaggi del film. Non ci sono naturalmente gag fisiche, non c'è slapstick, c'è solo qualche battutina a quella, anche abbastanza sagace. Il titolo originale, ovvero The Benshies of Inirishen, si differenzia molto da quello che abbiamo qui in Italia, gli spiriti dell'isola, perché va un po' più al centro della questione. A parte che fa riferimento anche a qualcosa che viene poi fatta vedere nel, fatta vedere e sentire, diciamo così, nel, durante il film, il titolo parla delle Benshi, ovvero le fate irlandesi, che hanno tutta una mitologia loro, non sto qua a dirvele, poi magari ne parliamo un po' più nella parte spoiler di questo video, perché ho un discorso più dettagliato, che posso quindi dire solo in quella parte. Fatto sta che tutto ovviamente si collega nel modo migliore. Gli ultimi minuti tutto sommato continuano sullo stesso stile, quindi con quel senso di amarezze, di grottesco che abbiamo visto fino a quel punto, che va sempre più peggiorando in realtà, e fa sempre più notare i peccati, i problemi mentali che effettivamente abbiamo noi, umanità, e come finale in realtà è abbastanza ambiguo, e per questo voglio poi parlarvi della mia interpretazione, che penso non sarà, non sarò stato l'unico ad avere, durante l'ultima scena, proprio l'ultima scena del film. Esattamente per questo sono curioso di, magari leggere qualche commento, sulle vostre interpretazioni del finale, cosa ne pensate voi, quindi magari scrivete qualche cosa qua sotto, se volete fare spoiler, come sempre, messaggio spoiler, poi lasciate qualche spazio, e scrivete il commento, per non rovinare la visione. Nonostante il finale sia effettivamente ambiguo, posso dire che alcune cose sono un po' troppo divascaliche, quindi non al 100% mi ha convinto, il modo di raccontare quello che, quello a cui voleva arrivare il film, anche se effettivamente l'unica sensazione che ho provato, dopo essere uscito dalla sala, è amarezza totale. Ragazzi, come ho già detto, il film mi è piaciuto, dura un'ora e cinquanta, se non sbaglio, comunque non arriva forse nemmeno alle due ore, mi pare, almeno non le ho sentite, però, visto il tipo di film, la tipologia di film, come soprattutto trascorre il tempo, potrebbe sembrarvi molto lento, perché è la narrazione che è lenta, ma se avete già visto comunque altri film di Martin McDonagh, per esempio ci sono altri film proprio con Colin Farrell e Brendan Gleeson, quindi sono gli attori feticci di Martin McDonagh, molto probabilmente non vi peseranno, anche perché c'è la costruzione totale del rapporto distrutto tra i protagonisti, che fa anche mettere, che mette in atto le sinapsi dello spettatore per cercare di capire assieme ai protagonisti, al protagonista in realtà solo Colin Farrell, cosa effettivamente sta succedendo. Ma, se ancora non avete visto Gli Spiriti dell'Isola, vi invito ad abbandonare questo video e tornare magari dopo aver visto il film, perché fra poco inizieranno gli spoiler. Dirò in realtà poco, perché voglio solo parlare del finale, del colpo di scena che, in teoria, se colpo di scena possiamo chiamarlo, ho anticipato, perché io comunque l'ho individuato come colpo di scena, ma non è che sia così tanto esplicito fino alla fine. Anche alla fine in realtà non viene esplicitato al 100%, io ci sono arrivato un po' dall'altra parte, diciamo così, ho usato questo colpo di scena, tra virgolette, che ho anticipato per capire il finale, tramite diversi indizi che durante la visione, comunque, ho individuato, ma per questo appunto direi di passare alla parte spoiler, magari come sempre, voi che state abbandonando il video in questo momento, lasciate un like, iscrivetevi se vi trovate qua per la primissima volta, fatemi sapere cosa pensate degli spiriti dell'isola, con un commento qui sotto, condividete il video con chi non ha visto il film, che vorrebbe vederlo, comunque chi ha visto il film vorrebbe discuterne con qualcuno, perché essendo appunto questo tipo di film, penso che non ci saranno molti video a riguardo, se non i soliti creatori, i soliti miei colleghi, che parlano della maggior parte dei film in uscita, cerchiamo di far conoscere questo film a più persone possibili, comunque, vediamo dopo gli Oscar, magari qualcuno in più ne parlerà, ma ripeto, se non avete visto il film, uscite dal video, perché gli spoiler iniziano tra 3, 2, 1, della trama ne ho già parlato, senza concentrarmi sui dettagli, ma alla fine appunto questa, la metafora della guerra, costruita tramite l'amicizia finita, tra Padraic, il personaggio di Colin Farrell, e Colm, il personaggio di Brendan Gleeson. Il motivo di questa rottura in realtà è detto abbastanza presto nel film, ovvero il fatto che Colm capisce che il tempo perso a questo punto, con quello che è ormai il suo ex amico, è stato inutile, perché durante la visione possiamo accorgerci che comunque Padraic, non è esattamente lo scemo del villaggio, perché quel ruolo è riservato a Barry Kugan, che ha fatto un lavoro perfetto per quanto mi riguarda, infatti è anche candidato come miglior attore non protagonista, però anche Padraic non è che sia di questa grande intelligenza, e nel film ce lo fanno notare più volte, anche con lo stesso Padraic che si strugge di questo fatto perché ne ha conoscenza. Parte tutto da Colm, lui decide di chiudere l'amicizia perché ha capito questa cosa. Il film, ma anche la relazione stessa, va degenerando, da Padraic che cerca di capire cosa effettivamente si è successo, poi quando gli viene detto cerca di andare contro questo cambiamento, quindi cerca di avvicinarsi sempre di più al suo ex amico, che quindi è scogito a un piano, se così possiamo chiamarlo, ovvero ogni volta che il suo amico, ex amico, si avvicina, lui si taglia un dito della mano sinistra con cui suona il violino, con cui poi comporrà, o se non sbaglio, prima di tagliarsi le dita compone The Banshee Souvenirischen, che è anche il titolo originale del film. Padraic si presenta a casa di Colm, e credendo che non sarebbe riuscito a fare una cosa del genere, ma l'indomani si ritrova il dito indice di Colm nella posta. Avvenimenti vari poi portano Padraic a incattivirsi sempre di più fino al climax finale, di cui parleremo comunque fra poco. Fatto sta che questa faccenda finisce con Padraic che continua ad avvicinarsi al suo ex amico per diversi motivi, in realtà dall'inizio, da quello che era quello iniziale, e Colm finisce con la mano sinistra totalmente senza dita. Ecco appunto la metafora della stupidità umana, della guerra soprattutto, dove si arriva con il rancore da parte di Colm e vendetta da parte di Padraic. Colm si presenta a casa di Padraic e lancia sull'uscio le quattro dita rimaste che si è tranciato. Vengono mangiate dall'asina di Padraic, che è il suo animale domestico, il suo preferito, che quindi a causa dello stesso Colm muore. Ecco appunto la vendetta di Padraic, ovvero gliela dice tranquillamente in faccia e lo stesso Colm in qualche modo la accetta, lo possiamo vedere. In poche parole è intenzionato a bruciargli la casa e non gli interessa effettivamente se Colm si trova all'interno. Lui comunque gli dà orario e tutto. Gli dice alle due, io mi presenterò davanti a casa tua e appiccherò il fuoco. Se ti trovi dentro, non mi importa. Alla fine è questo il discorso. Durante tutto il film comunque noi conosciamo anche diversi personaggi. La sorella di Padraic, lo scemo del paese appunto, interpretato da Barry Keoghan, che è figlio di un poliziotto che lo tratta malissimo, lo picchia, arriva sullo schermo anche con diverse tumefazioni in faccia. E anzi, per quanto mi riguarda, il personaggio di Barry Keoghan è realizzato a pennello. Conosciamo anche il prete che comunque fa la sua parte durante il film. La cosa che possiamo notare è che in quest'isola la maggior parte degli abitanti sono uomini. Ci sono davvero pochissime donne, tra cui la sorella di Padraic e la strega, almeno chiamata così più volte dal personaggio di Barry Keoghan. Adesso non ricordo esattamente come si chiama il personaggio, mi dispiace tantissimo perché mi è piaciuto molto. Ma comunque, questa strega si presenta così. Io che già mi ero andato a informare un po' sulla mitologia dell'Irlanda, almeno di quello che avrebbe parlato questo film, conoscevo un po' la tipologia di aspetto con cui venivano identificate le Benshies nel 1920, comunque in quel periodo. Questa è la Meggera, la strega del film, tra virgolette naturalmente non è effettivamente una strega, e questo è un disegno del 1925 di una Benshee. Notate qualche somiglianza? Beh, effettivamente è così. Ho individuato subito il fatto che quella fosse una Benshee, almeno non letteralmente, non so se il film poi vuole raccontare letteralmente il fatto che esistano le Madri delle Fate che nella storia irlandese hanno avuto compiti differenti, iniziando per essere qualcosa di buono, qualcosa di positivo, fino ad essere qualcosa di negativo, fino anche al presagio di morte. E in questo film possiamo infatti notare questa cosa. Veniamo sfortunatamente a conoscenza infatti che Dominic, ecco il nome del personaggio di Beric Yogan, dopo tutti i sopprusi del padre, dopo tutte le violenze subite, e anche un rifiuto da parte della sorella di Padrik, che è notevolmente più grande del ragazzo, scena tra l'altro molto dolce. Dopo tutto questo lo troviamo affogato, e ovviamente si è suicidato, non serve pensarci troppo. Non tanto per il rifiuto ricevuto, ma tanto più per la brutta vita che ha vissuto. E guardate un po' chi è che va a chiamare il padre poliziotto per far trovare il corpo? Proprio la strega, quella che appunto ho identificato subito come la Banshee. E stessa cosa accade più volte durante il film, ma soprattutto alla fine. Anzi, se non sbaglio, una delle ultime inquadrature riguarda proprio la vecchietta che è seduta a guardare la scena che noi abbiamo già visto. Ovvero Padrik, che rispetta la sua promessa, quindi alle due si presenta a casa di Colm, con Colm stesso all'interno, e le dà fuoco, facendo uscire comunque prima il cane portandolo a casa. Quello che noi vediamo negli ultimi minuti è alla fine la locandina stessa, quindi la locandina spoiler, ma non è che può dire così tanto, l'ultima scena. Colm, Padrik e il cane, elemento non inutile, sulla riva del mare. Ma una cosa mi ha colpito particolarmente e mi ha fatto pensare ad un'interpretazione di questa scena, ma anche degli ultimi minuti in generale. Ci viene fatto pensare che Colm, essendo lì sulla spiaggia, sia uscito dalla casa a fuoco. Ha deciso quindi di non dare soddisfazioni, non abbandonarsi al rancore, non rimanere sulla stessa idea, uscendo da casa sua in fiamme, non morendo. Il problema però è che qui Colm dice una frase critica. Non così tanto in realtà se si ragiona un po' di più, ma visto che Padrik, prima di dare fuoco a casa dell'ex amico, porta via il cane per non farlo morire perché alla fine non ha colpe, Colm dice sulla spiaggia a Padrik, grazie di prenderti cura del mio cane. E attenzione, non gli dice grazie di esserti preso cura del mio cane, gli dice grazie di prenderti cura del mio cane. Quindi penso che ormai ci siate arrivati. La mia interpretazione del finale riguarda il fatto che quella scena che noi stiamo vedendo abbastanza forte, sia per il discorso ma anche per appunto tutto quello che ci sta dietro, almeno secondo questa mia interpretazione, continua a tutti gli effetti la metafora degli spiriti dell'isola di The Benshees of Inirishen, ovvero alla stupidità che porta anche alla cattiveria e al rancore dell'uomo non ha mai fine. E infatti, secondo me possiamo ragionarci così, Colm è morto tra le fiamme. E quella che vediamo è solo una proiezione di Padrik che è quello che avrebbe voluto perché nonostante tutto quello è il suo amico, era il suo amico da una vita. Questo naturalmente si ricollega anche alla Benshe, alla vecchietta, alla strega che sta guardando tutto da una sedia che si era procurata dalla casa in fiamme di Colm e quindi quello che vediamo non sta succedendo realmente. Quello non è Colm, è solo l'idea di Padrik ed è tutto davvero triste. Ma ragazzi, questa è stata la prima recensione del 2023, primo film che recensisco sul canale quest'anno. Avrei dovuto recensire anche Megan, non so se arriverà prima o poi la recensione. Magari sì, magari no, fatemi sapere se volete la recensione con un commento. I prossimi film di cui parlerò spero siano, bussano la porta. Avrei dovuto vederlo oggi assieme agli spiriti dell'isola ma non ho il tempo materiale quindi lo guarderò più avanti. Poi naturalmente Ant-Man and the Wasp Quentumania farà parte di queste recensioni. Andando a marzo ci sono molti film che mi interessano e che quindi faranno parte dei video. Magari vi parlerò anche di Marcel De Schell che vedrò il 9 febbraio se avrò tempo, un altro film candidato agli Oscar come miglior film d'animazione. Sono molto curioso di vederlo perché di animazione non ha praticamente nulla se non solo il protagonista. Ma ragazzi, vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Fatemi sapere davvero cosa ne pensate di questo film con un commento perché sono molto curioso di sapere anche la vostra interpretazione del finale se è diversa da quella mia. Ripeto, magari non è diversa perché molte cose sono abbastanza didascali che anche il finale così ambiguo potrebbe essere raggiunto subito ma sicuramente non è un film per tutti perché molti potrebbero trovare il finale molto inconcludente cosa che in realtà non è perché è in pieno spirito, scusate il gioco di parole con tutto quello che abbiamo visto in questa ora e 50 minuti. Come sempre vi invito anche a supportarmi con un like un'iscrizione se vi trovate qui per la primissima volta in descrizione trovate tutti i link importanti tra i miei social Instagram e TikTok soprattutto dove sono molto molto attivo ultimamente ma trovate anche il link di Pampling sito di t-shirt articoli nerd e con il codice ilpensiero4 avrete la possibilità di inserire un paio di calze nel carrello e averle gratis. Con il codice ilpensiero4 supporterete anche il mio lavoro io per questo naturalmente vi ringrazio. E niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao A presto